All'inferno e ritorno. Il Castelnuovo sotto 3 a 0 in casa con la Cinzia Albalonga fino al settantesimo mette in campo cuore, carattere e gambe. Segna tre volte in 20 minuti e riesce a strappare un pari che per come è maturato vale quanto una vittoria. La cronaca poco più di un minuto e ospiti subito pericolosi con il diagonale di pace che esalta i riflessi di Natale bravissimo a respingere in volo plastico. Al 27esimo proteste vehementi del Castelnuovo per un intervento in area di Santoni ai danni di Degidio. L'arbitro però non rabbede gli estremi per concedere il rigore. Sul ribaltamento di fronte la Cinzia Albalonga va in vantaggio, transizione offensiva perfetta e il pallone arriva ad Agostino che dal limite dell'area scocca un destro potente e preciso che non lascia scampo a Natale. Il Castelnuovo reagisce al 35esimo, un tiro di Degidio dal limite non inquadra la porta. Quattro minuti dopo ci prova Croce, sfera deviata da una difensore che si impenna Santilli con la punta del guantone alza in angolo. La ripresa inizia ancora con il Castelnuovo propositivo, traversone di San Severino, rimpallo a centro area, la sfera arriva a Bregas il cui tiro però non inquadra alla porta. Al ventesimo il raddoppio della Cinzia Albalonga, traversone dalla sinistra a cercare Cardillo che con il mancino al volo non dà scampo a Natale. Il Castelnuovo si fa vedere con un tiro a giro del neoentrato Manari che sfiora l'incrocio dei pali. Al ventinovesimo invece arriva il tris degli ospiti con un diagonale chirurgico di D'Agostino che sigla così la sua personale doppietta. Manari nel Castelnuovo non si arrende alla mezz'ora, segna l'uno a tre con una gran botta da dentro l'area che piega le mani a Santilli. Ci credono gli uomini di Di Fabio che al quarantaduesimo segnano ancora, traversone dalla sinistra verso il centro dell'area De Gidio è il più lesto di tutti e corregge a rete mettendo alle spalle di Santilli. Il portiere laziale nel frangente prende anche un colpo fortuito entra alla barella ma alla fine dopo quattro minuti di stop il portiere della Cinzia Albalonga si riprende per fortuna senza conseguenze. Si allunga quindi il recupero concesso dal direttore di gara e al cinquantunesimo il Castelnuovo agguanta il 3-3, traversone dalla destra e girata di testa sotto misura griffata Cellucci. Finisce così per il Castelnuovo l'imperativo nei prossimi impegni sarà ripartire dal carattere mostrato nella fase finale del match, reazione che può essere una bella iniezione di fiducia in vista del rush finale della stagione. Mister un pareggio sì ma per come è arrivato possiamo definirla quasi una vittoria, la chiave è il carattere e la voglia di non mollare mai del Castelnuovo. Sì è vero perché quello che è successo oggi contro un avversario fortissimo penso che avrebbe ammazzato chiunque, questi ragazzi invece non hanno mollato niente, ci hanno creduto fino alla fine. Chi è entrato è entrato con una cattiveria disarmante perché voleva a tutti i costi, non ci stavano a perdere questa partita e alla fine hanno fatto qualcosa di incredibile e devo solamente dirgli bravi per tutto quello che hanno fatto oggi in campo. C'è stata qualche protesta per la situazione dell'1-0 della Cinzia al Balonga, Castelnuovo chiedeva un fallo da rigore su De Giglio non concesso dal direttore di gara. Beh ultimamente non siamo molto simbiosi con gli arbitri perché capita sempre degli episodi un po' dubbi e purtroppo sempre a nostro sfavore. Oggi nell'occasione più che il fatto che non abbia dato il rigore è il fatto che magari noi ci siamo distratti in attimo perché a tutti è apparso talmente netto che poi nella ripartenza ci abbiamo preso gol. Quindi oltre al danno la beffa, però sappiamo che questo fa parte del nostro mestiere, noi dobbiamo pensare solamente a giocare a calcio, lasciare perdere tutti questi episodi e fare quello che hanno fatto poi nel secondo tempo anche sul 3-0. Questi ragazzi hanno dimostrato veramente di essere un gruppo forte, di credere ciecamente in ognuno di loro, volevano questo pareggio fino alla fine e hanno cercato anche di vincerla questa partita. Quindi io sono veramente orgoglioso di allenare un gruppo così, anche in questo momento di difficoltà loro sono stati sempre vicini, siamo stati tutti vicini e sapevamo che ne venivamo fuori. Questa sicuramente è una partita che ci permette di guardare poi con più serenità al nostro futuro. Mister Chiappara, 70 minuti perfetti della Cinzia al Balonga, poi il blackout, 3 gol del Castelnuovo, finisce a 3. Cosa non ha funzionato nella fase finale del match? E' sempre difficile trovare una spiegazione a un risultato del genere per come si è incanalata la partita e per quello che i ragazzi erano riusciti a fare per gran parte della gara. Riuscendo ad arrivare ad avere un vantaggio di 3 gol, evidentemente ci siamo spenti per forza di cose perché sennò a me nella mia vita non mi era mai capitata una cosa del genere. Tutto serve, esperienza, perché evidentemente qualcosa posso aver sbagliato anch'io. Io non sono uno che dà niente per scontato, può darsi che magari non sono stato bravo nelle sostituzioni a motivare e far capire l'importanza di questo risultato e che la partita non era finita. Pensi sempre che i ragazzi siano allineati, invece in quel momento lì qualcosa non è andata bene per forza di cose perché è veramente incredibile fare 3 gol fuori casa fino all'ottantesimo, avere la possibilità di fare altri gol e invece ritrovarsi a commentare un pareggio e rischiando anche se durava qualche minuto in più rischiando anche di perdere, quindi era veramente qualcosa di allucinante.